È stato presentato presso la SAT di Arco il calendario realizzato dagli utenti del servizio integrato, terapeutico e riabilitativo dell'unità operativa 5 di psichiatria dell'ambito dell'Altogarda, Ledro e Valli Giudicarie. La realizzazione è stata possibile grazie al supporto finanziario della cooperativa Mimosa, con la collaborazione delle sezioni SAT di Arco e Care Alto, oltre che del Parco Nazionale Adamello Brenta e dell'Associazione Amici della Sarca. In platea gli stessi utenti del centro di urno di Tione e della comunità terapeutico-riabilitativa Pilla Ischia di Riva del Garda. Foto e testi sono il risultato di un impegno di collaborazione fra utenti, operatori e volontari SAT. Presente anche il vice sindaco di Arco, Stefano Bresciani, che ha affermato quanto questo calendario dimostri ancora una volta l'impegno degli ospiti dei centri riabilitativi. Anche il tema della Sarca tocca particolarmente e mette in risalto quelle ferite che il nostro fiume ha subito nel periodo di sviluppo idroelettrico, che in questi anni si sta cercando di rimarginare con interventi di riqualificazione ambientale. Presentazione oggi della terza edizione del calendario realizzato dai volontari della cooperativa Mimosa. Ci puoi spiegare il progetto? Allora, questo è un calendario che facciamo per la terza volta consecutiva. È fatto dagli utenti della comunità terapeutica di Pilla Ischia di Riva del Garda, del centro di urno psichiatrico di Tione, che la cooperativa gestisce in convenzione con l'azienda sanitaria. E in che modo è stato realizzato lo scopo di questo calendario? Allora, è stato realizzato dagli utenti che hanno fatto le fotografie lungo il Sarca, hanno preso contatti con le associazioni, con la SAT, con gli amici della Sarca, proprio per entrare in contatto con le realtà associative del territorio. L'obiettivo è proprio quello di mettere in contatto i nostri utenti con la società civile e con quanto si muove di utile e di positivo sul nostro territorio. È stato finanziato dalla cooperativa Mimoso, ma è stato fatto dagli utenti e dagli operatori delle due strutture psichiatriche di Riva del Garda e di Tione. Che tipo di attività viene svolta dai ragazzi? Allora, questo del calendario appunto è un'attività che si svolge dentro l'insieme delle varie attività terapeutico-riabilitative che facciamo nelle nostre strutture, che vanno da un laboratorio di ceramica, un laboratorio d'arte, scrittura, lettura e in maniera particolare molte iniziative vengono fatte proprio sul territorio. Visite ai musei, visite alle varie situazioni naturalistiche che ci sono sul nostro territorio, proprio perché il senso alla fine è quello di mettere in contatto, di integrare le attività dei nostri utenti con le attività normali che fanno tutte le persone sul territorio.